questa telecamera posta a rinquadrare il fiume calore che si vede che è in piena però pare tutto sotto controllo si vede che in diretta guardando qua la data 18 1 2023 e l'orario 10 43 44 minuti e via discorrendo il sottopasso sulla sinistra ho visto che ci passano le macchine perciò non è arrivata l'acqua la e pare sia tutto sotto controllo addirittura ci sta un leggero solo attualmente e in lontananza si vede la bella dormiente solo per farvi vedere quello che qualcuno non può ciao